Non siamo un fattito, non siamo una crasta, siamo cittadini di tutto e basta, ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Grazie Presidente. Brevemente presento due interpellanze ai sensi dell'articolo 38. La prima riguarda le risposte, interpellanze e interrogazioni. Siccome molte di queste interpellanze che noi facciamo provengono praticamente dai cittadini e i termini del Tuel sono per le risposte di 30 giorni, che ad oggi non sempre sono state rispettate. Ci sono state le ferie di mezzo, però non vorrei che ci sia una prassi che non conosco, volevo sapere esattamente quali sono i giorni. Faccio un riferimento anche alle interrogazioni che ho fatto specifiche sul quartiere San Rocco, ho ricevuto delle risposte, però sui miasmi e sui lavori di Montessanto ancora non si sa niente, i cittadini sono molto arrabbiati perché giustamente quel quartiere sembra proprio abbandonato a se stesso. L'altra interpellanze invece riguarda una richiesta di solleciturio, di sollecitare il Comune, sollecitare l'ARPA all'installazione di nuove centraline per il levamento di inquianti. So che non spetta al Comune questa funzione, però visto che noi abbiamo intenzione di portare le nuove politiche per la mobilità, è importante che ci siano delle nuove centraline che controllano anche nuovi parametri, non un'unica centralina come abbiamo a Monza che è anche tra l'altro vecchissima, perché altrimenti noi queste politiche che faremo non avremo neanche modo di monitorare effettivamente i loro vantaggi. Ho chiuso.